Se ti piace la frutta Ok, adesso C'è da uscire di qui Quindi prendiamo la chiave, appunto No, questa non ho Si smaterializza e si rimaterializza addosso al gatto, giusto? Sta facendo come il mio gatto quando mi ha messo il collare col gps Non lo sopporta Ok, ho visto che comunque c'era un foglietto lì E dai, non fare il mona Bravo Ok Va bene, comunque mi incuriosiva soltanto questo foglietto Traduzione Un messaggio molto romantico Molto proprio pieno di sentimenti Ok, c'è da sbloccare la porta Usando le chiavi Anche perché non abbiamo altri oggetti Torcia molto comoda E qua c'è da mettere un codice Dove trovare questo codice? Mo lo vediamo Se c'è una stanza a destra Significa che questa stanza A qualcosa serve Infatti È proprio Spiattellato sul muro Basta spostare Questa roba E il codice è 3 7 4 8 Easy peasy 3 7 4 8 Che fastidio che tu non possa scrivere Con Cioè che tu debba premere invio con quadrato Che sbocco Vabbè, siamo fuori Che posto di merda Invece vi dirò Tolti quei buboni dei tarponi Che vedete sul muro Non è neanche così male Ok Ho letto che c'erano I ricordi L'oltre Ah, io provengo dall'oltre Ok Ok Non disturbatemi i tarponi Non disturbatemi i tarponi